Il Teramo incassa il terzo K.O. Casalingo contro un Cesena che ferma un 4-0, forse anche troppo penalizzante per i biancorossi alle prese con diverse assenze. Guidi cambia per la prima volta a Modulo in stagione e vale la 3-4-3 per far fronte alle defezioni, soprattutto a centrocampo, anche se Arrigoni e Rossetti vanno in panchina. In avanti confermati Malotti, Bernardotto e Didio. Con diverse assenze il Teramo inizia comunque la gara con l'atteggiamento giusto e al quinto un cross interessante di Azio Osmanovic viene intercettato da Nardi in uscita. Un minuto più tardi Ilari disegna un cross per la testa di Caturano che per poco non trova la porta. Al 23esimo Didio impegna dalla distanza ma in maniera centrale l'estremo avversario. Il Cesena risponde un minuto dopo con una palla confezionata da Bortolussi servita in velocità per Caturano che però non si trova nel posto giusto, fortunatamente per il Teramo per mettere in rete. I bianconeri salgono d'intensità, Bortolussi prima della mezz'ora chiama in causa Tozzo e subito dopo Caturano dal limite dell'area fa partire un tiro che sfiora il pallo alla destra del portiere del Teramo. La risposta del Diavolo in un'azione che parte dalla sinistra con Rillo che arriva poi dall'altra parte passando per Malotti con Bois che va al tiro da buona posizione non trovando però lo specchio della porta. I biancorossi insistono e Malotti impegna Nardi da lontano con Palla che finisce in calcio d'angolo. Dagli sviluppi il Cesena riparte velocemente con Steffè che arma la velocità di Berti e lui a servire l'assist per Brambilla che ha il più semplice dei compiti per portare avanti i romagnoli. Per il Teramo i guai del primo tempo non sono finiti perché due minuti più tardi da un cross di Caturano Lexi Lari Caparbio in area affronta Bua e trova il raddoppio oltre al primo gol con la maglia bianconera in campionato. Cupi manda subito in campo Andreca e Lombardo ne acquisto ad inizio secondo tempo al posto di Rillo e di Dio. Con i loro ingressi il Teramo torna in fase di possesso e però ancora il Cesena a rendersi pericoloso al quinto fa vale. Le mette sul secondo palo dove Bortolussi forse è disturbato non riesce ad impattare bene di testa. Il ritorno al modulo conosciuto fa comunque bene al Teramo. All'undicesimo Bernardotto entra in area ma alza troppo la mira non trovando la porta. Poco dopo è Viero ad impegnare Nardi dopo uno scambio con Azios Manovic. Dagli sviluppi Lombardo pesca sul primo palo Bellucci che gira di testa ma non trova la rete. Dalla panchina si alzano anche Rossetti per Soprano e Montaperto per Bois in casa Teramo mentre Viali manda in campo Tonin, Missiroli e Munari come prime scelte. La gara si chiude però al 28esimo quando Bortolussi fa partire un tiro dalla distanza che si infila in porta con complicità evidente di Tozzo. Una deviazione di prima intenzione di Rossetti e la risposta virtuale di un Teramo che stava provando prima del Triss a riaprire la gara in una partita che si trascina alla fine con poco altro da dire. C'è da sottolineare comunque l'esordio di surricchio tra i professionisti a soli 15 anni al posto di Viero oltre al palo di Malotti che al 42esimo trova il legno ad impedirli di trovare la rete dopo aver superato Nardi. A mandare i definitivi titoli di coda ci pensa Cato Urano nel recupero che gira di testa un calcio d'angolo dell'ex Steffè per il definitivo 4-0. Per il Teramo il prossimo impegno si chiama Aquila-Montevarchi domenica prossima in trasferta nella speranza di recuperare alcuni dei tanti indisponibili.